E ora vi parliamo del tronista di Uomini e Donne Francesco Monte, uno che non si dimentica certo facilmente, infatti la scorsa settimana, chiediamo veramente scusa noi per avere saltato l'appuntamento, ma insomma abbiamo avuto tre scelte in una settimana e quindi insomma siamo in minima parte giustificate, fatto sta che Francesco Monte ha compiuto 27 anni e li ha festeggiati nella sua città ossia Taranto, in compagnia della sua famiglia ossia il padre e il fratello Stefano, e ovviamente non poteva mancare la sua gordita del cuore a cui lo stesso tronista scrive da Facebook, grazie di esserci sempre gorda mia, messaggio a cui la stessa Cecilia Rodriguez non ha potuto fare a meno di rispondere dicendo, che ogni secondo che passa della tua vita, possa essere sempre più felice ti amo con tutto il cuore.